Oggi giochiamo a un altro dei 21 giochi minuti Ossia alle 3 piramidi In questo gioco sostanzialmente di maggioranza Dovremmo fare offerte nelle piramidi Quindi in questi tempi E chi avrà più punti sul 3 round di gioco sarà il vincitore Non prendiamoci in ciance Chi inizia il primo giocatore? In ciance? Non credo che sia italiano Sì Prende i miei 10 Piccoli idioti Posso già dire che ho fatto una pescata del cavolo Però va bene Giustamente in questo gioco Bisognerebbe giocare 4 lati del tavolo Per rispecchiare gli spicchi delle piramidi Ma per ragioni di registrazione Giocheremo sui due lati Marianna occuperà quello sinistro E Ivan quello destro della piramide E io quello sopra Canto sei giusto Noi siamo giusti Vai inizio io Sì Sei fuori Facciamo così Due Che non sono Non ci sono qui Ok spieghiamo le regole Tanto sono velocissime Se nella piramide non c'è nessuna offerta Si gioca un cubetto di un qualsiasi colore Se nella piramide c'è già almeno un'offerta Allora si può giocare o un cubo di un colore già presente O due cubi di colori O un gatto O un gatto Che ti No Non giocare con i punteggi No Tocca a me Tocca a me Ci stavo frattendo Mi ci ho portato avanti il giallo Ah prima lì Dai facciamo il miele C'è un po' che miseria Paga Or C'è un po' che cosa c'è Non lo so Eh Non ho fatto casino Questo non lo posso mettere Questo non lo posso mettere Ok quindi Mamma mia brivito Mettiamolo Mettiamolo qua Di tubanza Perché tocca ancora a te No È finito Ah Sei finito Ah sì perché ne hai messi di più probabilmente Ok valutiamo le singole piramidi Questa piramide la maggioranza c'è la Mary Quindi 12 punti a Mary Poi 3 punti a paga Un punto arriva E due punti a me E questa è andata Questa piramide 1 2 3 4 5 Quindi 12 punti a paga Piau Dodici Dodici Ma l'hai fatto? A 35 Non lo so A 35 Così Quante fa? 15 Ma è scusa Fa 15 punti È a 15 Ah Piau 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 E due a paga Ancora No scusate No io mi sono già andato Due punti a Mary Scusate E due punti a te Ma che cattino Ma che cattino Questa 3 4 5 E tre 4 5 Quindi io e Ivan 12 punti Mi ha fatto proprio schifo Ah insieme lo leggiamo Mary 3 punti E paga 2 Uuuu Tutto uguale Fantastico Marco falla apposta Bella lì Abbiamo vinto tutti Secondo round Chi è più indietro Facciamo l'ultimo di prima A questo punto E' il primo Ciao No No Ancora Non c'è più indietro Diversi Oppure Scusate Ho preso male Ancora Che non siano bianchi Scusate Sono stupida Abbiamo preso d'assalto Con la piramide Praticamente Fantastico No adesso capisci perché Io mi ero confusa Prima 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 Premo 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 Non sa fu Aspetta Prima Ok Ti ho colto le palle Allora Quello che non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Salutiamo Non so chi Laura Pausini Pausini Ciao Giusto Oh no scusate Mi sto Mi sto Deconcentrare Ci sono solo due regole Mi sto So Che palle Sì Merda Mi sto Adesso Una roba brutta Ma no No Succede Finito Scusate 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 Mi fa la gara Scusate Scusate È stata la prima A essere presa da saldo Quella Finito Non ho più Finito Iniziamo da questa Allora La maggioranza È di Ivan 12 punti a Ivan 29 4 punti A me Scusate 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 21 2 punti a te E 0 Paga Sì Poi questo Io sono il nero Ecco perché mi confondo 1 2 3 4 5 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 12 punti a te 12 punti a me Tutti i 12 punti Quindi 29 Più 12 Fa 31 No 31 no Perché 41 Ma è vero 41 Ma è vero 41 6 Quindi 12 punti a me Più Poi 5 punti Alpaga Che è questo Sì è sempre stato il nero 5 punti Quindi siamo a 29 Dai E 3 punti a te Ok Chi è indietro? Io Il primo giocatore Ultimo round Questa l'aveva fatto bene invece ho fatto schifo Eh non è semplicissimo pensare alle cose Prendete anche i colori che mi puoi chiesti Pepe Uh sono giusti Ma io per confondere l'acqua la metto qua Samba giusto Per E' giusto perla Ah Mi piace Adio palline Adio palline E' E' pasta con questi verdi Lì manca il nero e il giallo Bastardo, questa cagata è una tacca Eh, c'ha sempre le cose Allora io ho proprio paga Quanto giallo è nero Fate vedere l'abruzzo Ma nel resto lo sapevo No, qui assolutamente Ma è ancora uno Ma sì, non è finito Eh, è ancora uno No, anche lui ne è ancora uno Stai finito? Io sì Niente, ho fatto schifo Ma non ho capito molto Ok, quindi Due, sei, quindi Meghi, dodici punti No, ero questa Ero giallo, vero? Sì, sì Sei sempre stata giallo E cinque punti a me Di verde Non è la tentativa Eh Quindi, Meghi Cinque Cinque anch'io Quindi cinque Ivan e Paga Quindi 44 e 46 Poi tre punti a Meghi Che è il giallo E due punti a me Io non l'ho capito molto Poi Sai che ha vinto Ivan Perché qua Due, tre, quattro, cinque Quindi Paga Ivan Avanzano di dodici Quindi Ivan A quindici Il Paga 56, 58 Io tre E uno mei Diciamo che a me Quindi a 65 Vince Ivan Non avevo visto il Il Pagano 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 Grazie a tutti.